Schiaffi in faccia fino a farlo cadere, poi gli ha sfilato il portafogli con tutti i soldi ed è scappato. Vittima un anziano di 83 anni di Termoli, il suo aggressore, 36 anni di San Giovanni Rotondo, è stato arrestato. Insieme alla complice, 40 anni, lei ex badante del pensionato, ha fatto da palo, ha permesso all'uomo di entrare in casa. La coppia con precedenti penali, rintracciata a Chieuti, deve rispondere di lesioni personali, rapina aggravata e distorsione, scrupolosa l'attività di indagine dei carabinieri dopo la denuncia del pensionato. Due gli episodi sotto la lente degli investigatori. Il 25 ottobre scorso, il 36enne e la donna avevano tentato di rapinare l'83enne all'interno di una chiesa di Termoli, ma non ci erano riusciti, disturbati dall'arrivo di alcuni fedeli. Ma il pomeriggio del giorno successivo, il piano è andato in porto. L'uomo, aiutato dalla complice originaria di Termoli, che ha fatto da palo all'esterno dell'abitazione del pensionato, con un pretesto si è fatto aprire la porta di casa dall'anziano. In un attimo lo ha aggredito, portando via i soldi. Immediate le indagini, l'uomo di 36 anni è finito in carcere a Larino, la donna ai domiciliari. A Toro, invece, i carabinieri della compagnia di Campopasso hanno fatto irruzione nella casa di un uomo agli arresti domiciliari. Sul tavolo della cucina c'erano droghe e vari strumenti utilizzati per il consumo. I militari hanno così perquisito casa. Nascosti in un borsello e già suddivisi in dosi, hanno trovato 40 grammi di cocaina, 4 di crack e 70 di roina, pronti per la cessione al dettaglio. Oltre alla somma di 400 euro, materiale vario per il confezionamento e la pesatura delle sostanze. L'uomo è ora in carcere a Capobasso.